Giugno adesso basta, oggi è stata l'ennesima giornata fancazzista ma con una concomitanza di fattori terribile Allora, parto giocando al computer, Skype con Maria, dovevamo soltanto parlarmi, ero messo in testa di parlare, basta Ci vogliamo fare altro, stiamo andando un sacco di tempo, quando ho l'ora di andare via mi dice che vuole giocare al computer Giochiamo al computer, a tal punto che non riesco neanche a lavare i piatti e farle mangiare, mi vergogno come una merda Robicchietta, fare la spesa, andare a fare le commissioni, andare a cambiare l'aspirapolvere, andare a pagare le tasse, quello che è Oggi non ho fatto niente, neanche degli esercizi fisici, oggi è stata una giornata sbagliata Mamma litiga al telefono con i bambini Io... Non lo so, ieri, no? Quando è? Ieri, sì Sul gruppo di Veronesi Abbiamo, hanno scritto che Una ragazza ha ottenuto in una parte, in una fiction rai L'altra, quella brava, la triestina, ha detto Vabbè, allora vi dico anche qui, io ho fatto questo e questo, ho fatto due fiction rai Io mi sento indietro e non sto facendo niente per recuperare Ci credo abbastanza Spero che vada così bene da un giorno all'altro, che il mio problema passi, che diventi bravo in automatico Che cazzo sto facendo?